Lo sono andati qua, sì Ciao Seconda su 4 con Brucie oggi Bentornati sul mio canale Nella scorsa siamo stati molto molto cattivi Abbiamo ucciso uno in maniera non molto silenziosa Che è stato rincorso con l'auto della polizia Oggi siamo al secondo favore per Brucie Vediamo cosa ci chiede Comunque di solito lui quando ci chiede qualcosa C'entrano sempre le macchine e i suoi steroidi Andiamo nel dettaglio ragazzi Però prima like, iscrizione e campanella Tre bottoni che ci vuole veramente Un quarto di secondo l'uno per prenderli Però per me valgono tantissimo Ok siamo esattamente qui da Brucie Easy as can be Ehi Brucie Eh sì che fisichino Questo qua è matto Però è buono C'è da dire questo C'è tanto male Ti fanno venire il cazzetto piccolo Ci entrano sempre i motori e gli steroidi ragazzi Ti l'ho detto L'ho detto L'ho detto E i rischi No Easy as can be Easy as can be Ok I'll just go take care of it Bye Immaginate il personal trainer Che è stato ingaggiato dalla rockstar Per fare le motion capture Delle cutscene di Brucie Vorrei essere lui Vabbè non ho il fisico Scherzo Ah ok Voliamo Vediamo se questa missione è abbastanza Easy oppure no Però ovviamente Man mano si va avanti Più le cose si fanno dure Paura Ok beh dai Abbastanza vicino Svolta l'angolo e aggiungere l'auto Bene Quale sarà la sorpresina una volta saliti in auto? Ricercati sicuro No Peggio Ora sono cazzi Ma sono tanti qua si Ciao Si è la scada audio che fa questi rumori Scusate Perdonatela Oh Io però rivolgo la mia macchina della polizia Così non è giusto Oh Ci mancava Merda Ci ha tolto molta vita No Eh ma sti qua ci seguiranno fino a fondo Ne sono sicuro D'altro ripeto Le macchine che non curvano un cazzo E patinano Lo dico sempre Sempre ragazzi Oh Spariti Dal nulla Apriti Grande Perfettissima 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 È quasi perfetta Musichetta come sempre Ma si può rubare il muletto No Ho riattaccato la chiamata per sbaglio No È lentissimo Merda Meglio scappare Oh Eh Ma è mettersi contro Nico Bellic Dunque Dunque Brucci che dice Sì lo so lo so Brucci ci aspetta Però da un'altra parte Vabbè Non è così lontano E stai vicino Quindi dai A corsa ci possiamo arrivare Sotto questa New York Oh Calmate Calmate Va bene ragazzi Arrivati qui Io vi saluto Lasciate like al video E iscrivetevi al canale Missione praticamente ragazzi Breve in dolore Abbiamo solo perso un casino di vita Solo quello Ci vediamo Alla prossima Con la terza su quattro Delle missioni Di Brucci Like Iscrizione Campanella Ozza Tutto qui Tutto easy Tutto in un secondo nemmeno Grazie ragazzi E iscriviti al canale